Ciao ragazze, felice anno nuovo e oggi ci siamo un'altra volta all'isola e come vedete dietro di me si sta questa passarella che bellissima tra l'altro e anche volevo farvi vedere che qui ci sono questi cartelli che dicono queste cose di fare attenzione con i coccodrilli che ci sono qua ma veramente io non vedo nessuno e voglio vedere qualcuno però fino adesso non lo vedo mi affaccio però non vedo nessuno qua io ancora ho questa influenza e appunto per quello mi sentite questa voce però vi voglio far vedere, andiamo a fare una passeggiata su questa passarella e speriamo non trovarci nessun coccodrilli se no mi sa che scappo il coccodrilli scappo ovviamente però fino adesso non ci vedo nessuno qua in questa altra parte ci sono i pesciolini, quelli piccoli ma non so se si riesce a vedere sono così piccoli e andiamo qua io sono molto molto contenta di condividervi questo posto a tutti voi tra l'altro, ah, ci sta questo, questo special, non so come dirlo, gioco dove vi faccio vedere perché non so spiegarvi guardate e noi per un po' andiamo alla spiaggia che vi porto con me ovviamente tra l'altro la spiaggia si è andato di là, di quella parte ciao ragazze siamo venuti a mangiare finalmente abbiamo tanta fame e siamo venuti a questo ristorante perché si chiama Chile che è questo qua tra l'altro questa è una catena degli Stati Uniti e dietro ci sta il mare e... oh, si vede e ci sta il mare più avanti andiamo là fuori perché là fuori fa un sacco di caldo quindi stiamo approfittando l'aria condizionata qua perché veramente fa un sacco di caldo oggi è... oggi è due vero? oggi è due oggi è due gennaio e abbiamo trovato un sacco di caldo cinta colore cioccolato che è questo qua e diciamo che ho i capelli un po' più decenti e questo è il ristorante e noi aspettiamo domani e noi aspettiamo domani hamburger patatine fritte e di pezzolati che ci sono diversamente mmm un po' buone questo è di red e tu hai due da metà queste sono cajitas di pollo e di vitello mmm un po' buonissimo e adesso siamo qua fuori guardate si piace felicissima e noi stiamo qua si bene dove si sta a dormire no 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 e qua no la mamma ci siamo al mare abbiamo aspettato che abbassare un po' il sole perché troppo troppo caldo noi andiamo a fare una passeggiata praticamente sulla schiaccia questo per iniziare l'anno positivo pensando positivo con tante proposte speriamo si realizzano questo anno non solo per me anche a voi che la non 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 ecco ecco la bene ragazze alla fine io spero che questo anno sia un anno molto bello per tutti voi per tutti quanti così che noi ci vediamo al prossimo video e vi lascio un bacio enorme ciao ciao